23 focolai attivi in Toscana, di cui due nuovi individuati nella settimana tra il 25 e il 31 di maggio. E' questo uno dei dati inviati dalla Regione alla cabina di regia del Ministero della Salute che sta continuando il suo monitoraggio sull'andamento del coronavirus. Uno degli indicatori presi in considerazione è la diffusione del virus. Quindi si analizzano anche i nuovi focolai. Anche se il termine può far pensare a grandi catene di contagio, in realtà il focolaio si crea anche con due casi. Basta che tra loro ci sia una connessione. Così marito e moglie che si sono attaccati l'infezione possono essere già considerati un focolaio. I nuovi focolai, quelli rilevati nell'ultima settimana di maggio, sono stati molto contenuti. Segno evidente che in Toscana si riesce ad interrompere molto presto la catena di contagio. L'indice R con zero, cioè il rapporto tra vecchi e nuovi casi. Nella nostra Regione resta ben al di sotto della soglia dell'1%, fermandosi allo 0,72. Nessun allarme, anche sull'ascesa dei nuovi casi, appena 5 nell'ultimo bollettino. Le persone ricoverate nei reparti Covid sono 71, ma resta alto in percentuale tra loro, quelle che si trovano in terapia intensiva.